Una mostra oltre le mani a Palazzo Genovesi con la sovrintendenza, di che si tratta? Si tratta di un'esperienza che nasce già dall'anno scorso per avvicinare i diversamenti abili, soprattutto nel settore della vista, che sono i ragazzi che la Fondazione Sinapsi assiste per migliorare l'accessibilità ai beni culturali. Considerato la specificità del bene culturale, abbiamo individuato come Fondazione Sinapsi, che da tanti anni assiste bambini povedenti e non vedenti, sia in Campania ma anche in Basilicata, perché abbiamo anche dei centri a potenza in Matera, attraverso l'arte appunto un momento di inclusione e di superamento delle barriere anche culturali, oltre che architettoniche, così come previsto dalla normativa dell'89 in Italia. La mostra durerà due giorni, dal 3 al 5? Sì, durante questa mostra saranno esposte le opere che sono state realizzate dai nostri ragazzi nelle giornate di lavoro nel laboratorio di percezione tattile. Queste opere saranno poi anche esposte in occasione del 20 dicembre per l'altra manifestazione che viene organizzata appunto dalla sovrintendenza in collaborazione sia con la Fondazione Sinapsi che con il Comune di Salerno.